A rappresentare la Commissione per le Pari Opportunità della Regione Campania in questa mattinata al Polifunzionale anche la dottoressa Maria Lipiero. La prima cosa che voglio chiederle, che cosa lascia una mattinata del genere in termini anche di messaggio trasmesso ai più giovani che poi sono le nuove generazioni e poi sono quelli che dovranno evitare di commettere gli errori che molto spesso purtroppo si verificano di questi tempi? Allora giornate come queste sono sempre importanti, credo che l'avete anche visto, i ragazzi hanno fatto tantissime domande quindi sono momenti di sensibilizzazione ma anche di formazione su tematiche che molto spesso non vengono affrontate a casa perché parlare di violenza, ma tutte le forme di violenza da quelle che possono riguardare la violenza dell'uomo sulla donna ma anche l'atto di bullismo che un ragazzino può subire in classe non è semplice perché sempre preceduto da un grosso momento di paura della denuncia non viene sempre fatto e dare loro la possibilità anche in forma anonimata di poter esprimere attraverso delle domande delle situazioni che loro vivono è fondamentale per capire la realtà in cui siamo e nelle nostre risposte far capire loro come intervenire per aiutarsi ad affrontare questi problemi. Prima veniva tutto nascosto nelle quattro mura, certo e quello è stato una delle scuse per non appunto i panni sporchi si lavano in famiglia perché magari i genitori dicevano alle proprie figlie di non denunciare ma è anche vero che c'è stata una grossa trasformazione sociale, una trasformazione sociale dovuta anche un po' all'emancipazione della donna la donna adesso ha più coraggio perché è stata supportata in tante battaglie. Giusto dire che questo fa paura all'uomo paradossalmente? Forse sicuramente perché la donna attraverso la sua emancipazione sta testimoniando il fatto che l'uomo non ha più quel potere psicologico, fisico ma anche economico. Adesso le donne lavorano, hanno una loro realizzazione economica non hanno bisogno di andare dal proprio compagno, devo fare la spesa, devo comprare questi ai bambini quindi anche questo c'è proprio il cambiamento della donna. Grazie a tutti.